Buonasera a tutti, meno male che avete messo il contro la rovescia. Io ho portato delle slides per illustrare brevemente quello che è un po' l'esperienza che ho vissuto. La prima cosa che voglio sottolineare, sono architetto, non amo parlare di me, come diceva Voltaire, non è bello parlare di se stessi, però in questa occasione ci tengo a dire al Ministero dei Beni Culturali, siamo quasi tutti architetti, architetti per scelta, nel senso che per la legge del 1939 sui beni culturali i progetti di restauro vengono fatti dagli architetti e raccontavo prima, scherzando, quando ho detto a casa che avrei fatto architettura è stato veramente una tragedia, avrebbero preferito qualsiasi altra scelta ma non architettura, era il 75 quindi il 68 ce l'ha stato da poco e quindi ho fatto architettura dicendo che io volevo curare i monumenti malati, volevo occuparmi di statica muraria e non di ponti o grandi strutture come gli ingegneri, poi in compenso dopo ho fatto il dottorato in ingegneria strutturale, quindi mi occupo di sicurezza dei musei da tutti i punti di vista. Per andare avanti, come devo fare? Per valorizzare i beni culturali di cui si sente moltissimo parlare, la cosa fondamentale è la realizzazione di progetti finalizzati a sostenere attività di tutela, va bene questo che c'è scritto, cerco di spiegare in poche parole, è molto facile dire vorrei occuparmi dei beni culturali e valorizzare quello che leggiamo su tutti i giornali, in realtà è molto complesso perché il fatto di valorizzare una struttura museale comporta chiaramente l'osservanza di tutte le norme che ci sono quindi sulle sicurezze, dopodiché la mostra è la parte finale, infatti nella fine delle slide vi farò vedere quella parte. I musei statali italiani, sapete che i musei si dividono i musei comunali, i musei privati, i musei del MIBAC, cioè del Ministero dei Beni Culturali, sono circa 306 e c'erano veramente quattro grandi poli museali che erano Roma, Firenze, Venezia e Napoli, adesso è stata fatta questa riforma che ha creato invece dei poli museali regionali, quindi uno per ogni regione, sette grandi musei che sono, potete immaginare, gli Uffizi, Galleria Borghese, Galleria dell'Accademia Venezia, questi più grandi o Caserta e undici sempre più piccoli e sono quelli per cui sono stati fatti concorsi quest'estate, se ne è parlato tantissimo, anche aperti agli stranieri, proprio per far vedere che noi italiani non è che siamo così chiusi all'esperienza straniera, nonostante tutte le critiche che abbiamo avuto. Poi ci sono i poli museali regionali, io sono nel polo museale regionale Lazio, in particolare abbiamo 43 strutture museali nel Lazio, quindi oltre a quelle di Roma, tipo Castel Sant'Angelo che potete immaginare a Palazzo Venezia, abbiamo poi parecchi musei sparsi per tutta la regione e poi se volete vi parlerò di quello dopo. Allora, la cosa che tengo a sottolineare è questa, che perché il Ministero dei beni culturali funzioni è stato fatto un accordo con il Ministero della ricerca scientifica, su questo voglio insistere perché nel mio cammino sono stata anche prima vicepresidente e poi presidente dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, perché in realtà sono emigrata a Roma, io sono una salentina, sono della provincia di Lecce, quindi con grande gioia ho lavorato nella sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici di Lecce e ho avuto questa esperienza di presidenza di un'Accademia di Belle Arti, cercando poi di favorire questo colloquio tra Accademia di Belle Arti e Ministero dei beni culturali. Questo è stato chiaramente ricepito specialmente dall'ultimo ministro della pubblica istruzione e dal nostro Franceschini e sono state fatte diversi accordi. Allora, per quanto riguarda l'università, le facoltà di architettura e di ingegneria chiaramente possono dare un grosso supporto per la sicurezza, la progettazione, i rilievi chiaramente architettonici, con la storia dell'arte potete immaginare materiali informativi e guida delle opere, materiali informativi che sono fondamentali perché abbiamo moltissimi musei con opere meravigliose, ma io per prima non capisco nulla di archeologia, abbiamo dei musei di archeologia stupendi e avere vicino una spiegazione fatta da un archeologo o vicino a una tela che sia del 400 o dell'800 fatta da uno storico dell'arte è fondamentale. Con i conservatori di musica pure sono stati fatti vari accordi, abbiamo, sapete, a Roma questo museo degli strumenti musicali, in parte riaperto, in parte lo stiamo riaprendo, ho partecipato anche al progetto di allestimento, è quasi pronto, una prima parte. Le accademie di belle arti chiaramente contribuiscono con progetti di scenografia, allestimenti di mostre, che è quello che tutti vogliono fare e va bene la grafica per i materiali informativi. Questa è l'Accademia di belle arti di Lecce, tanto per darvi un'idea, è un'accademia che sta in un edificio storico, è un convento, un convento settecentesco, quindi si presta molto bene a unire quello che è i beni culturali con la ricerca scientifica. Questo è l'accordo che avevamo firmato con il rettore dell'Università del Salento, in modo tale che i ragazzi dell'Accademia potessero venire al Ministero dei beni culturali e fare una loro esperienza tipo stage, ed è stato molto importante per loro ma anche per il Ministero. Il punto su cui volevo insistere molto è quello che è la parte meno conosciuta delle problematiche che ci sono nei musei. La prima problematica che si pensa che sia secondaria ma è fondamentale è la sicurezza nei musei. Quando vieni nominato direttore di un museo, come è capitato a me, vieni criticato spesso perché nel mio caso io ancora non ho aperto questa struttura di cui sto facendo il restauro, che è la Villa Giustiniani a Bassano Romano, vicino a Sutri, una villa meravigliosa, ha degli affreschi del Domenichino, dell'Albani, insomma gli storici dell'arte sanno più di me, un parco di 23 ettari con una casina di caccia molto bella, pure quella di fine 600, il palazzo della villa è di fine 500 ampliato nel 600 e 700, il problema grosso è che ci sono enormi problemi di sicurezza per cui ogni giorno quasi discuto con professori anche stranieri che vogliono venire a vedere gli affreschi del Domenichino perché se però inciampano sui gradini rotti delle scale il responsabile sono io, quindi per ora non si entra, ma tra poco, spero a giugno faremo entrare. Qui ho cercato un attimo di riassumere quelli che sono i problemi grossi della sicurezza ma insomma non voglio tediarvi. C'è poi la verifica della sicurezza sismica, su questo pure insisto molto perché c'è una legge poco conosciuta che prevede che ci sia la verifica sismica di tutti i nostri monumenti se sono frequentati in particolare dal pubblico come musei. Ho lavorato anche nella direzione generale dei beni culturali, ho fatto parte dell'ufficio tecnico che si è occupato di selezionare 43 musei in tutta Italia per fare queste verifiche sismiche e per fare la verifica sismica vedete vi ho così sintetizzato cosa serve per darvi l'idea del materiale fondamentale per arrivare a fare una verifica sismica ma con il personale che abbiamo nei musei nel ministero non è possibile, non perché siamo pochi, perché tutti quanti diciamo siete una marea, siamo una marea, siamo circa 19.000 persone. Il problema grosso è che abbiamo moltissimi custodi che servono perché nei musei comunque se si deve aprire il custode serve perché bisogna tutelare le opere dalla sicurezza dell'eventuale vandalo ma abbiamo magari pochi disegnatori o avvocati o ingegneri e qui vi do un'anteprima, probabilmente già lo sapete perché è stato pubblicato, che ci sarà questo bando per 500 nuovi assunti, saranno assunti 500 nuove persone al ministero, il bando ufficiale uscirà entro l'estate e prevede l'assunzione di persone da storici dell'arte a assistenti tecnici di tutte le categorie. Allora, prevenzione incendi lasciamo stare, io sono un po' fissata sulla prevenzione incendi, sapete nei musei è fondamentale, abbiamo avuto dei problemi grossissimi con gli incendi, insegna Torino, la Sagra Sindone e purtroppo molti incendi sono stati scaturati durante, si sono stati, diciamo, sono stati, sono scaturiti da situazioni di cantieri in cui la sicurezza del cantiere non era abbastanza, diciamo, curata. Questo era un accordo con l'Università degli Studi di Firenze, la Facoltà di Architettura, perché vedete in questo caso avevamo fatto con l'Università di Firenze un'indagine per vedere, cioè la statua del David, non è solo la statua che deve essere protetta con antifurti eccetera, ma anche Firenze ha delle problematiche sismiche e bisognava controllare dalla struttura architettonica, il tempo scorre, dentro cui è inserita l'opera e quindi sono stati fatti delle modellazioni tridimensionali per cercare di vedere quale poteva essere il pericolo più grosso. Non ve l'ho portato, uno dei problemi grossi è la collezione di gessi che c'è a Firenze e c'era qualcuno che aveva proposto di mettergli un collarino per tenerli in modo che non cadessero e lì mi ricordo che se viene la scossa di terremoto li decapitiamo tutti e abbiamo risolto il problema, non abbiamo più i gessi da conservare e risolto il problema. Questa era un po' la localizzazione per farvi vedere i musei scelti per fare la verifica antisismica. Abbiamo fatto un progetto per avere dei fondi dalla Arcus, all'epoca Arcus era questa società che gestiva fondi e li dava, il problema è che grosso è questo, che i fondi ci sono ma per averli bisogna fare dei progetti come progetti europei, altro problema grosso, abbiamo a disposizione grossissime cifre che potremmo utilizzare ma vanno fatti i progetti. Qui grazie al cielo siamo riusciti ad avere 4 milioni di euro per queste verifiche e abbiamo fatto, in varie delle storie che ho portato, beh Toscana, Umbria, ma è per farvi vedere pure quante bellezze abbiamo sparse per l'Italia, sì sono tantissime, ma la manutenzione va fatta, è costosa, va fatta una valorizzazione adeguata però alla struttura. Il castello di Melfi, ve le scorro rapidamente perché mi manca solo un minuto e concludo, questa invece, ecco questa qui era per farvi vedere il museo archeologico di Napoli, il materiale reperito è sempre quello che si trova sul posto dai vecchi addetti funzionari. Per concludervi, la cosa bella del nostro lavoro è organizzare le mostre, cioè quando un ragazzo, un giovane mi dice voglio fare, entrare bene i culturali per fare il progetto di una mostra, io sono felicissima, quello è l'obiettivo finale. Allora questo è il progetto che abbiamo fatto per una mostra, non mi chiedete perché il titolo Carlo Saraceni, ho fatto una figuraccia quando ho detto che per me Saraceni erano i turchi che invadevano appunto il Salento e poi su fino alla Turchia, perché era questo famosissimo pittore. Il risultato è stato che ci sono stati pochissimi visitatori, ma la storica dell'arte che ha fatto la pubblicazione chiaramente è stata molto, diciamo, amata per questa sua ricerca. Questo è l'allestimento, cioè come era la situazione, vedete a Palazzo Venezia c'erano ancora depositati quelli che erano i legnami della mostra precedente con un carico di incendio pazzesco, questi sono i saloni di Palazzo Venezia, prima e durante l'allestimento della mostra, quella che era la mostra. Il progetto l'ho fatto con l'architetto Claudia Pelagalli, che è una bravissima architetta giovane, che ci ha dato una mano, perché nel Ministero noi non abbiamo autocad, cioè non possiamo disegnare, però quando si fa il progetto, si deve fare una gara, quindi chiedono un preventivo, è richiesto il progetto in autocad. Questi sono dei particolari. Per farvi vedere, ecco, quando si fa il progetto bisogna poi localizzare le varie opere e qui è una discussione continua con gli storici dell'arte, perché poi decidono di spostare il quadro, di metterlo sull'altro parete e non basta cambiare il disegno e spostare il quadro, bisogna poi fare tutta una serie di cambiamenti fino all'ultimo, collegati poi con la sicurezza, perché lì c'è anche la sicurezza anti-intrusione. I giapponesi, quando ci prestano delle opere, sono fissati, non gli importa nulla dell'antincendio, loro vogliono essere sicuri che le cose non vengano rubate. Quando arriva un'opera viene accompagnata sempre dal tedesco o dal francese, parlo di tedeschi perché sono chiaramente molto esigenti e molto rigidi, ma insomma ce la caviamo anche con loro, questi sono particolari del progetto, per farvi vedere, poi arriviamo ai particolari, questa è una foto della mostra prima che arrivassero i visitatori, sempre a Palazzo Venezia, per darvi un po' un'idea. Allora, prima di concludervi volevo dire, io ho scelto architettura perché volevo curare i monumenti, la persona che parlerà invece, proseguendo il discorso di cura, è una persona veramente eccezionale, quindi la prossima speaker che devo presentare, si chiama Alessandra Modugno e lei veramente si dedica alla cura delle persone perché lei è un'oculista bravissima e riesce a ridare in qualche modo la vista, comunque cura tutte le problematiche degli occhi, anche per chi nasce senza l'organo dell'occhio oppure per qualche motivo lo perde, quindi io mi occupo dei monumenti, ma insomma tutto sommato ce li godiamo se li possiamo vedere, sono ben contenta, Alessandra Modugno riuscirà che è là, eccola, se si vuole alzare, sarà lei che proseguirà, è un'amica ed è veramente una donna ammirevole per il lavoro che fa. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.